Presidente Ventola, vieni qua la nicchia. Grazie mille. A questo momento così importante di discussione su come viviamo e su come potremo vivere e su come potremmo vivere, fruendo anche della sapienza, della luce che ci viene dagli illustri ospiti che hanno tenuto qui e che terranno qui i loro approfondimenti. Io un po' con l'intuito, un po' a naso e un po' da dilettante, cerco di impicciarmi nelle faccende di cui voi avete discusso, anche per una ragione. Ho vissuto dentro l'angoscia di quella specie di maledizione orwelliana che immaginava che il mondo della tecnica potesse soppiantare il mondo dell'etica e che lo sviluppo tecnologico potesse essere una forma moderna di asservimento della comunità umana. appunto, il grande fratello, un grande occhio, un grande orecchio, una grande capacità di captazione di tutte le informazioni che riguardano gli individui, quindi la possibilità di esercitare un controllo sociale tendenzialmente totalitario. Ecco, l'avanzare di un totalitarismo di tipo nuovo. Quindi sono cresciuto con questa inquietudine, finché nel 2001, quando mi sono occupato un po' più da vicino della contestazione alle forme planetarie della globalizzazione liberista, ho visto con crescente piacere, un piacere fisico, che si poteva fare un uso alternativo dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Si poteva immaginare che quello strumento che, in ipotesi, poteva segnare le forme moderne e spaventose di una sovranità senza controlli, quelle forme, invece, potevano essere capovolte. La rete poteva improvvisamente non essere, diciamo così, utile alla pesca del potere, ma poteva servire per pescare le verità nascoste del potere. Un capovolgimento di funzioni. E devo dire che in queste ore, nonostante quel che dicono le diplomazie, le cancellerie, i governi di tutto il mondo, ho vissuto un piacere fisico ancora più intenso dinanzi alle notizie che provengono da questo strano soggetto sovversivo inseguito dalle polizie di tutto il mondo con mandato di cattura internazionale. Non dico niente, ovviamente, dell'inchiesta che lo coinvolgerebbe in una molestia. Non conosco le carte e non mi esprimo. Quello che invece mi dà il piacere di qui sopra è il disvelamento, sto parlando di Wikileaks, è il disvelamento di quello che accade nelle segrete stanze del potere. Laddove, badate, può accadere di tutto. Può accadere, ecco, provo a farvi un esempio, che si decida che bisogna necessariamente dichiarare guerra a una nazione per la salvaguardia dei diritti umani perché in quella nazione vengono violati i diritti umani e che la difesa e la tutela dei diritti umani sono un primato assoluto, senza sé e senza ma, e che in quelle stesse segrete stanze, mentre si immagina di codificare una forma moderna di guerra giusta a tutela dei diritti umani, nel nome, diciamo, della necessità della vittoria, si può anche avallare l'uso della violazione sistematica dei diritti umani per raggiungere lo scopo prefissato. Insomma, si fa la guerra per uno scopo ma per poterla vincere si viola esattamente il medesimo scopo. Ecco, si può sorgere Guantanamo o si può tornare all'uso della tortura, si può tornare esattamente in quell'abisso nel quale affoga lo stato di diritto, il diritto e la civiltà medesima. Allora, in queste ore mi son detto, ecco, stanno costringendo il mondo a misurarsi con una trasparenza potenzialmente inesauribile. Stanno costringendo il mondo, quello dei potenti, quello del potere che decide della vita e della morte del pianeta, a misurarsi con una inquietante ipotesi di controllo dal basso. Mai si era determinato, diciamo, che l'occhio potesse essere quello della cittadinanza attiva e che potesse entrare dentro gli angoli più bui e più riposti del vertice della piramide sociale laddove si concentra il potere politico. Ecco, i new media sono un bel discorso pubblico se sono lo strumento per ampliare le forme della democrazia, gli spazi della democrazia. Esse consentono di abbattere i dislivelli di sapere tra cittadini e cittadini. Mai, come oggi, la libertà è questione di quello che sai, di quanto ne sai e di come lo apprendi. Sapere e libertà sono legati in un nesto inestricabile. La battaglia per la libertà, a meno che uno non immagini che la libertà consista nell'uso di un telecomando e nella proprietà di mille canali televisivi che normalmente, diciamo, costruiscono un mercato fittizio di informazioni. Ma la libertà consiste nello sviluppo delle conoscenze. Quanto più una comunità è colta, quanto più si investe sull'intelligenza generale, quanto più l'armatura culturale di un popolo viene irrobustita, tanto più ci sono garanzie di sviluppo della libertà. Un tempo libertà e apprendimento riguardavano la lotta contro la dispersione scolastica, la lotta contro la mortalità scolastica. Oggi la libertà è anche questione di abbattimento del digital divide. Sapere, sapere in un mondo sempre più sofisticato dal punto di vista delle reti e della sapienza tecnologica. Questa è la battaglia che abbiamo davanti. E tuttavia, finisco, voglio dire questo, che questa battaglia riguarda noi in prima persona. I new media non è un tema per tecnici, è un tema soprattutto per giovani generazioni. Se vogliono impoverire il contenuto della comunicazione sociale, dal basso, orizzontalmente, una giovane generazione mette in campo invece un contenuto più ricco, che ha dentro di sé mille semi di nuova umanità. Una comunicazione sociale che serve a comunicare umanità e non a comunicare in una sorte di babele ciò che rende il dialogo una mera somma di monologhi. È una grande sfida. Voi l'avete discusa, l'avete affrontata da tanti punti di vista specialisti, punti di vista specialistici. Non vi sfugga che non c'è specialismo che possa nascondere il punto vero che noi stiamo discutendo, che riguarda quanto noi stessi siamo in grado di organizzare un flusso moderno di informazioni e a partire da tutte queste informazioni quanta libertà sapremo garantire a noi e alle nostre comunità. Per questo io spero che il public camp possa essere un momento di coscientizzazione, di consapevolezza e anche di ottimizzazione delle buone pratiche affinché ci si possa reciprocamente scambiare gli auguri e dire buona libertà. Grazie.